Sarà importantissimo porre un'attenzione particolare all'adattamento al cambiamento climatico. Parlo soprattutto rispetto ai piccoli comuni che si troveranno a confrontarsi con un'Europa che non deve sembrare distante. Quindi il compito assoluto delle istituzioni sarà quello di avvicinare l'Europa ai piccoli comuni affinché siano accessibili progetti, programmi, risorse per rendere i territori più adatti al cambiamento climatico. Noi abbiamo in Italia una sfida enorme sul settore del turismo, sul settore della produzione della filiera agroalimentare, sul settore del benessere nelle città. Questa sarà una sfida immancabile nei prossimi anni da affiancare alla riduzione delle emissioni di CO2.